C-C-C-C-C-Change non era ovunque bella Marocco compri i nocciolini欢 compri i rotterini compri quello che vuoi ! ...non parli male di Marocco perché Marocco è un grande paese in Marocco è andato via tanta gente tanto i marocchini è andato air11 al nord in Puglia qui, a Marocco rispetta ... cosa farei qui, scusi? è ospite dell'hotel? è ospite dell'hotel colacca, hotel cos'è l'hotel questo? questo, questo, lei è ospite qui no, non sono ospite, io sono marocchino marocchino, marocco marocchino di dove? marocchino di marocco non vuole, non vuole vendere qua lei qui dentro non può vendere c'è la licenza? non c'è niente poi è lei marocchino, no, no, fuori perché non lo vuole io io non vado fuori, io vendo quello che voglio via 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 non c'è niente non c'è niente